C'è stata proprio una fase di allenamenti, sono tutti giocatori che vengono da infortuni, Kivo, Stankovic, per cui Kivo ha fatto soltanto tre allenamenti, un tempo soltanto a San Siro come Stankovic che aveva fatto l'allenamento prima e appunto quattro allenamenti soltanto Stankovic, per cui ho voluto riniziare così come avevo finito l'anno con gli stessi giocatori che stavano super bene. Adesso sicuramente per il derby avranno una settimana in più di lavoro e saranno a disposizione. Io adesso mi aspetto soltanto di fare bene la partita con il Parma perché tanto sapete benissimo che voi fate un lavoro differente dal mio, voi parlerete tutto il mese di mercato e noi non possiamo andare dietro a queste chiacchiere, noi dobbiamo fare i fatti e basta. Io me lo auguro, mi auguro che sia l'anno dei nostri attaccanti. Milito è un giocatore che conosce il calcio, sa molto ma molto bene i movimenti, anche perché è più anni che sta qua, i movimenti che deve fare per farsi dar palla dai suoi compagni. Si è sempre impegnato veramente tanto e per il fatto che si sia sbloccato il più contento sono proprio io. No, non credo che cambi perché ormai i giocatori e allenatori sono super vaccinati per cui non deve cambiare nulla. Siamo pagati, dobbiamo rendere al massimo. Zarate è un giocatore nostro, lo stimo tantissimo per cui credo che anche lui possa fare bene qui all'Inter. Zarate è un giocatore eccelso perché ha tecnica, ha resistenza, ha scatto, ha tutto. È che si ferma e allora bisogna ogni tanto dargli la scossa. Io lo intendevo in quella maniera, poi certo c'è chi è negativo e la mette subito sul brutto. No, perché è un'espressione forte. Sì, ma ci vuole, è una bella elettroshock che ci vorrebbe. Capisco che sono duro da capire. Snyder è un giocatore dell'Inter e sarà con noi. Io punto sempre su tutti i giocatori che sono a disposizione dell'Inter, sempre. Tutti saranno utili. Tutti.